Oggi voglio fare un bel ragionamento riguardo alla pirateria, cosa ne penso un po' di questo argomento, quali sono le mie argomentazioni a riguardo, questo se non altro è un argomento che può dividere molto. Ovviamente stiamo parlando di una cosa assolutamente illegale, quindi insomma ci tengo subito a far notare agli agenti della guardia di finanza, all'ascolto, che io non pirato nulla, eh, non c'ho mica la benna sull'occhio, io non sono un pirato assolutamente. Quindi agenti, signor giudice, guarda io non so nulla di queste cose, non so assolutamente di che cosa stiamo parlando, ciò di cui parlerò oggi, le mie opinioni sono mera filosofia speculativa, data da ragionamenti atemporali che nulla hanno a che vedere con cose che potrei io o persone di mia conoscenza aver fatto, io non so nulla. Mai sentito parlare di siti come Torrent, non so nulla di queste cose. Fedina penale pulita, sempre bravo, Ligio cittadino, io non ho mai piratato nulla e sconsiglio tutti quanti di farlo. Ok, finito il disclaimer dedicato alla guardia di finanza, ora possiamo anche parlare seriamente. Allora, la piratera non è necessariamente un qualcosa di sbagliato, nonostante venga ritenuto un reato, facciamo un passo indietro, mi sembra piuttosto lampante e assolutamente non doveroso da essere specificato il fatto che se una legge dice che un qualcosa non va fatto, non significa necessariamente che quella sia una cosa moralmente scorretta. Ok, le leggi sono molto molto opinabili e soprattutto sono state scritte in determinati periodi storici e però tutto cambia. L'Italia è proprio un posto che dice, vabbè, fin tanto che il pirata non ci lucra abbondantemente, a noi che ce frega lasciamo che pirati. Bene o male il ragionamento in Italia è sempre stato così e mi auguro che continui ad essere così perché io sono a favore della pirateria, proprio ve lo dico chiarissimo. Viva le opere piratate, viva l'uso assolutamente gratuito di opere d'arte. Sì, sì, sì. Ci sono delle opere, ok, che guarda caso sono anche le opere migliori da un punto di vista meramente artistico e cinematografico, attenzione, che non vengono neanche distribuite in Italia e quindi di che cosa stiamo parlando? Io anche volendo farlo e potendomi permettere di farlo, come posso avere la possibilità di vedere determinati film se non piratandoli? Ci sono delle circostanze dove è impossibile fare diversamente. Questa non è una giustificazione, è proprio, è fattuale. Chiunque sia un appassionato di cinema d'autore lo sa molto bene. O c'hai i soldi per andare, i soldi e il tempo libero per poter andare a tutti i festival che ci sono di anno in anno, tutti i giri del mondo a farti tutti i festival e ti spari tutti i film possibili e immaginabili perché poi alla fine quasi sempre passano per i festival, certi film a cui sto cercando di riferirmi, esclusa questa possibilità che mi sento già di escludere a priori per tutti, nessuno, cioè neanche i critici cinematografici vanno tutti i festival, quindi dai, non prendiamoci in giro per cortesia. Se riteniamo che l'arte sia un qualcosa che appartenga all'umano proprio di diritto in quanto esiste solo in virtù dell'umano, per intere io non farei mai pagare un ingresso al museo. Per me i musei tutti gratis, sempre e comunque, sempre e comunque i musei devono campare di altro, ok? Già le varie fondazioni eccetera che ci hanno determinati musei, ho toccato il microfono, hanno fior fior di liquidità pronta grazie agli affari che hanno saputo fare in passato con le opere, quindi già lì non pigliamoci per il culo. Le grosse istituzioni museali ce li hanno i denari, non hanno bisogno di te che gli paghi il biglietto. Voi avete la minima idea di quante opere ci sono nei magazzini dei musei? Nei loro magazzini i musei molto spesso hanno più opere lì che quelle esposte. Gli basterebbe per far cassa vendono all'asta un paio di opere, tirano su qualche milione ma proprio come se piovesse, quindi di che cosa stanno parlando? La liquidità molto spesso è l'ultimo dei problemi. Qualunque museo, qualunque esposizione dovrebbe essere gratuita. Potrei proprio vagamente essere disposto ad accettare di pagare una cifra simbolica per accedere alla personale di qualche artista vivente che non è un artista particolarmente conosciuto e che quindi abbia bisogno anche di supporto economico. Allora lì già potrei dire ok, metti che per vedere la tua personale devo pagare 3 euro. Se è interessante ci può stare pagare quei 3 euro, che proprio è simbolico, no? Ma il fatto di dover pagare per fruire l'arte io non la posso concepire, cioè è proprio troppo insensato secondo me. Poi dipende, se vuoi vedere l'arte come un'industria, come al pari delle altre, va bene. E in tal senso il cinema in primis è la più grande industria, è un'arte per ricchi. Io non posso fare i film che voglio quando voglio e nessuno può fare i film che vuole quando vuole. Non, innanzitutto non puoi farlo da solo, ti servono tante persone, quindi ti servono anche tante risorse umane e necessariamente quindi economiche, perché sapete com'è, il lavoro in genere si paga. Chi si fa lo sbattimento di reperire in qualche modo che solo lui sa come, opere che sono praticamente irreperibili perché sono state proiettate una volta ad un festival e basta, esiste quest'opera che magari è un'opera incredibile, proprio life changer, ma io non posso farne uso neanche volendola pagare. Ma lì la pirateria è essenziale e chi fa questo operato di andare a cercare di reperire le opere e di caricare sui vari torrent, sui vari server peer-to-peer, ma non solo. Poi ci sono stati più volte piattaforme come la magnifica, incredibile che io avrò sempre nel cuore, sempre porterò rispetto a chiunque abbia creato film per evolvere. Piattaforma magnifica che purtroppo ha chiuso i batteti da tempi non sospetti, c'è stato un grosso attacco da parte della guardia di finanza, incrociandosi con la polizia postale che hanno buttato giù, fior di siti che propagandavano cultura, cioè voi rendete conto? Hanno chiuso film per evolvere che aveva quasi esclusivamente al suo interno film d'autore super di nicchia, irreperibili, che non hanno quasi mai avuto distribuzione in Italia, però merda tipo cineblog, ancora aperta e funzionante. Cioè differenza tra il voler piratare ora e subito un film, magari anche poco artistico e molto molto commerciale, che attualmente è al cinema e magari ci rimarrà per dei mesi, e che poi dopo uscirà in DVD e su Blu-ray e quello che volete su tutte le piattaforme immaginabili, o piratare una cosa che ho avuto una sola occasione nella vita di vederla, che era quel festival dall'altra parte del mondo rispetto a me in quella data precisa, e poi basta, o l'ho recuperato lì o non lo potrò mai più vedere. Fate voi, cioè due pesi, due misure, vi sembra lampante questa cosa. A mio modo ho dato una volta un contributo non indifferente. Io sono la persona che ha fatto in modo che Hypnosis Display di Paul Clipson arrivasse in Italia. Chiariamocelo. Paul Clipson, regista super di nicchia, assolutamente sperimentale, ha fatto pochissime opere, quasi tutte dei capolavori in mani. Hypnosis Display veniva ritenuta come la sua opera magna, il suo unico lungometraggio, nonché la sua opera più matura, più completa, più folle, incredibile. Le uniche pochissime persone che in Italia l'hanno visto, io gli ho chiesto come hanno fatto e tutte quante mi hanno dato la stessa risposta. Hanno scritto una mail a Paul Clipson in persona e gli hanno chiesto di poter vedere il film e lui gliel'ha fatto vedere. Io feci la stessa cosa, ma all'incirca un mesetto dopo che io gli scrissi, uscì la notizia che Paul Clipson si suicidò. Quindi quel film potenzialmente è andato perso per sempre. Qualunque possibilità di vederlo è andata via sfumata. La sua famiglia, a quanto pare, non è molto... o non dava sufficiente valore alla sua opera, alle sue opere, al suo operato di vita e quindi non ha avuto quella che sarebbe stata una brillante idea. Proporre a qualcosa come la Criterion Collection di fare un cofanetto di Blu-ray con tutte le opere di Paul Clipson? No, non hanno voluto fare questa cosa. Hanno preferito lasciare che tutto andasse a sfumare, che quindi anche Hypnosis Display si perdesse come la crimine della pioggia e quindi era irreperibile. Qualcuno aveva il file di quel film sul proprio computer, però nessuno l'ha mai caricato su qualche piattaforma di streaming. Come si poteva fare? A un certo punto ho scovato, mi è stato detto, che su Vcontact, la versione fake di Facebook in versione russa, all'interno di quel social, che essendo il governo russo, che gli frega loro della pirateria, lì c'è il mondo piratato, c'è proprio una quantità di roba piratata che non avete idea, proprio come entrare su Netflix quasi, però tutto piratato. E qualcuno aveva caricato Hypnosis Display, creai un account per Vcontact, andai a cercarmi Hypnosis Display, contattai il russo che lo caricò, grazie all'ausilio di Google Translator, gli scrisse un messaggio privatamente chiedendogli il favore di poter avere una copia di quel file e lui molto gentilmente me lo passò. Invece che tenermelo tutto solo per me, nelle mie grinfie, potevo essere forse l'unica persona in Italia a possedere il file di quel capolavoro. Invece che cosa feci? Contattai gli admin di Film per Evolver e gli dissi, sentite, io ho Hypnosis Display, se lo volete distribuire io vi do il file. E così fu. Ed è così che almeno qualche centina di persone in questo paese hanno visto Hypnosis Display. E ne vado proprio fiero, perché Hypnosis Display è un capolavoro immenso che non so quanto sia reperibile adesso, non l'ho più controllato. Io purtroppo non ce l'ho neanche più, perché in un hard disk che mi si è bruciato, un giorno in cui divento ricco, magari posso permettermi di mandare l'hard disk in camera bianca e di recuperarlo, perché poi là dentro ci sono di quei film che non avete idea. Settimane di ricerche su torrent giapponesi per trovare robe assurde. C'è stato questo periodo della mia vita dove una cospicua parte della mia giornata consisteva nell'andare a reperire opere irreperibili con lo scopo di vederle e di condividere con altre persone interessate a vederle. Ecco. Qualcuno può fare questa obiezione interessante? Senti, ma tu hai detto che facevi film? Direbbe, ma a te farebbe piacere se i tuoi film venissero piratati? E la risposta è contattatemi alla mail xcj.live.it e vi manderò privatamente tutti i miei film che altrimenti potreste reperire a pagamento su Amazon Prime. Fate voi. Io sarei il primo pirata della mia roba, perché in quanto regista ci terrei che quante più persone possibile vedessero il film. Poi mi sembra chiaro che nell'interesse del produttore serve a guardare questa cosa per il profitto. Il produttore ci ha messo i soldi grazie al cavolo. Cioè, grazie al cavolo, è ovvio. Qualunque regista al mondo mi sembra assurdo credere che se ha fatto un'opera un'opera che valga la pena di essere vista un'opera con una certa componente di artisticità mi sembra assolutamente inverosimile ipotizzare che un qualunque regista al mondo non ci tenga che voi possiate vedere il film anche senza pagarlo. Qualunque artista vuole che la sua arte arrivi a quante più persone possibile e la pirateria è un ottimo modo per fare questo quindi se mai in futuro avrò occasione di fare un film con i soldi veramente con un budget cospicuo cosa che mi auguro diventi possibile un domani. Non è che c'ho tanti film da voler fare ce n'è uno in particolare che mi basta fare quello e poi posso morire in pace. Una volta che il film è fatto e finito e si è fatto il giro dovuto nei festival dovuti io poi una volta che è via libera io prendo e sono io il primo a caricarlo su torrent cioè capite io l'ho pirato il mio film ma perché voglio che la gente se lo guardi ci sono stati casi di altri autori che hanno fatto questa cosa autopiratando le proprie opere a discapito dei produttori però mi sembra un atto politico in un certo senso e a me piacciono gli atti politici lanciano dei messaggi che è il messaggio che l'arte non ha prezzo non ha costo e che dovrebbe essere fruibile a tutti come tutta la cultura mai creata a livello umano che anche i libri volendo magari facciamo i libri da un certo punto in poi nella timeline del tempo andando indietro perché ci sta che un libro appena uscito lo paghi però se già un libro c'ha 50 anni al di là di ristampe dico ok ci può stare che io magari lo voglia possedere per collezione o altro però allo stesso tempo boh mi piacerebbe poter avere l'occasione di leggerlo e poi decidere se comprarlo quante volte vi è capitato di andare al cinema e vedere film di merda e qui aver buttato i soldi a me non dispiacerebbe poter prima vedere gratuitamente il film e poi eventualmente comprarmi il blu ray magari se si fa anche una bella edizione da collezione perché no sono logiche ognuno ha la sua non è che c'è giusto sbagliato in questa cosa io vi sto esprimendo la mia idea della pirateria che secondo me è un qualcosa che ha anche una certa componente etica assolutamente sì sì non è sicuramente non è anetico un ethical non è non etico l'atto di piratare qua lascio veramente totale libertà della soggettività di ognuno di giudicare e di avere la propria opinione a riguardo voi volete considerarmi un mosto per aver visto qualche migliaio di film in maniera gratuita senza aver pagato trovate voi il modo per poter vedere tutto qualunque cosa pagando perché come detto molte delle cose che ho visto in vita mia da amante del cinema adesso ci mancherebbe che siano cose che siano state distribuite cioè nel senso è ovvio che poi se una cosa non ha mercato non viene distribuita in virtù di ciò è anche ovvio che sia difficile da reperire ed è anche ovvio che se me la voglio vedere o vado al festival o più e altro non ci sono altre opzioni purtroppo su certe cose mi dispiace ma è così e però in genere sarebbe la possibilità di far scegliere poi ha proprio la coscienza o meno di ognuno di dire io l'opera ne fruisco gratuitamente poi dopo la pago oppure l'inverso io l'opera la pago ma una volta che l'ho pagata devo poterne fruire gratuitamente tutte le volte che voglia io pago il biglietto per andare a vedere il film al cinema dopo che l'ho pagato quella volta io devo potermelo più volte al cinema va bene perché occupo un posto per qualcun altro e va bene però non ci vedo nulla di male se io ho pagato ho già pagato ho già pagato il costo e la mia visione perché non dovrei poterne fare altre tanto il film è sempre lo stesso una volta l'ho già visto a te non è che cambia se non è il fatto che puoi spennarmi ancora di più facendomi pagare ogni volta in cui lo rivedo cioè fate voi non avevo particolari argomentazioni qua una volta che ho spiegato queste cose per me ci sono e ho detto tutto quello che volevo dire infatti questo video si conclude adesso ci vediamo sempre qua su questo canale mettete mi piace commentatevi facendo sapere la vostra opinione sull'argomento condividete se volete ma non con la guardia di finanza se volete farmi una donazione per aver portato Hypnosis Display in Italia ma anche per questo magnifico canale trovate tutti i link in descrizione per supportarmi noi ci vediamo sempre qua con un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti